non capivo cos'era, vedi dalla zona, dalla zona di campagna, dalla zona verso la montagna sarà fantastico, perché noi arriveremo dal mare, passeremo nella zona, nella parte diciamo rurale interna, quindi le campagne della Sicilia e da questi paesi di montagna saliremo nella parte alta, la attraverseremo non salendo in montagna ma attraverso le sue valli, i suoi ponti deboli e da lì scenderemo verso il mare dormendo in un altro borgo che probabilmente sarà Isnello ed è un borgo da cui praticamente si vedrà il mare quasi, da Isnello faremo un altro tratto di percorso, un'altra parte di corsa che ci porterà sopra Cefalù e poi da lì per un discorso anche geomorfologico che è più complicato, la costa diventa una montagna che scende sul mare, diciamo in qualche modo saremo anche costretti a prendere i mezzi ma sarà un piccolo trasbordo veloce verso Cefalù e rifiniremo potendo farci un bagno al mare